Roberto Bracco, grande drammaturgo napoletano, il più acclamato in Italia e all'estero tra 8 e 900, ha subito prima il pesante ostracismo da parte del regime fascista per la sua discesa in campo sul terreno politico in occasione delle elezioni del 1924 e poi è stato dimenticato secondo me anche intenzionalmente dagli intellettuali nel secondo dopoguerra perché il suo esempio, la sua figura, la sua irremovibile e solitaria opposizione al fascismo sarebbe stata imbarazzante ricordarlo da parte di chi invece, e sono stati in tanti, erano scesi a compromesso, avevano accettato favori, avevano ricevuto vantaggi e poi nel secondo dopoguerra si sono scoperti inopinatamente antifascisti. Un gruppo di intellettuali scandinavi nel 1926 avanzò la candidatura di Roberto Bracco che non venne sostenuta dal regime fascista, dal governo fascista con la motivazione secondo la quale Roberto Bracco era un anti-italiano. Quello stesso anno, come adesso è noto, il Nobel andò a Grazia De Letta che invece aveva ben altri ingressi, diciamo così, ben altri rapporti con il regime stesso. Molte figure dell'antifascismo sono state dimenticate, forse non a caso, quelle figure che non erano evidentemente emergenti oppure appartenevano a una cultura che non si era iscritta ai due blocchi fondamentali. Bracco poi a me mi è particolarmente caro perché lui è stato esiliato a casa di mio padre. Mio padre l'ha ospitato ad Agerola e se lo ricordava, quest'uomo malinconico, triste per tutto ciò che gli era accaduto, che amava andare a cavallo e in quel tempo lui che scriveva e aveva un suo principio morale molto forte preparava anche una generazione successiva all'antifascismo con i suoi comportamenti. Mio padre molte lezioni l'ha prese da lui. Mio padre molte lezioni l'ha prese da lui. Grazie a tutti.